Contrasto all'abusivismo e all'esercizio professionale improprio, sono stati questi i temi al centro del cordiale incontro che nei giorni scorsi c'è stato tra il presidente dell'ordine dei fisioterapisti di Napoli, Avellino Benevento e Caserta, dottor Paolo Esposito, e il tenente colonnello Michele Avagnale, comandante del gruppo NAS del Meridione d'Italia. Il briefing si è svolto presso il comando Carabinieri per la tutela della salute di Napoli, dove il tenente colonnello Avagnale ha accolto il dottor Esposito, manifestandosi da subito la più ampia disponibilità al confronto continuo per raggiungere il comune obiettivo istituzionale della tutela della salute. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati aspetti importanti del problema, convenendo sulla necessità di individuare metodi per semplificare le segnalazioni, da contestualizzare in modo corretto e mirato, affinché si ottimizzino i risultati della rotta al fenomeno che può arrecare grave danno alla salute pubblica.